bistecca saporita tolgo la carne dal frigo due ore prima di cuocerla e prima di cucinarla la asciugo bene con carta assorbente anche sui lati padella rovente metto la carne e la faccio cuocere per un minuto a fiamma alta poi la giro e metto il burro il rosmarino l'alloro il sale e passati in totale due minuti giro e faccio cuocere altri due minuti passato uno dei due minuti di cottura metto l'aglio il sale il pepe e faccio finire di cuocere ora giro la carne per l'ultima volta e faccio cuocere per un altro minuto per un totale di sei minuti di cottura a fine cottura taglio la carne la impiatto in un piatto caldo metto il condimento ancora sale e buon appetito